Il settore delle costruzioni si organizza per la riapertura. Anche a livello locale, imprese edili, cave, laboratori di lavorazione del sasso, laterizi, legno e manufatti si stanno attrezzando in vista di una possibile riapertura a inizio maggio. Si attendono disposizioni più dettagliate da Torino, dove la regione è al lavoro con il Politecnico per capire come far attrezzare il mondo produttivo per garantire sicurezza ai lavoratori. Un riavvio che anche su scala provinciale si attende con impazienza. Sarà difficile ma è necessario prima che il comparto incassi il colpo del K.O., rimarcano dal mondo sindacale. Il settore ferma da due mesi. Si stima che il 90% delle imprese edili ha dovuto far ricorso alla cassa integrazione ordinaria. Vista la situazione, molte aziende non hanno potuto anticipare in busta la CIG. Per garantire liquidità si è dovuto far ricorso alla cassa edili. Cos'è successo? Presto detto, si è provveduto ad anticipare i primi giorni del mese in corso il pagamento dell'anzianità professionale, che solitamente e rimpagamento a maggio. A fine aprile invece verrà versata l'annuale gratifica in genere corrisposta a giugno. Una fotografia tinte fosche, valutato che parliamo di un settore già fortemente provato dalla crisi strisciante degli anni passati, che secondo i dati della cassa edile, nei 12 mesi compresi fra settembre 2018 e ottobre 2019, ha visto una diminuzione di 172 lavoratori e una chiusura del 5% delle imprese operanti nel settore. Ora l'emergenza sanitaria rischia di assestare il colpo definitivo, soprattutto nei lavori privati, se non si trova il modo di ripartire in totale sicurezza, sottolinea Luca Lepiani di Feneal Will Piemonte VCO. Il 4 maggio è dietro l'angolo, per quella data occorrerà che le aziende abbiano potuto reperire i dispositivi di protezione. Un problema ancora irrisolto, poi c'è la partita delle difficoltà di poter assicurare a tutti la distanza. In alcune realtà è cosa difficile. Ogni appresa, aggiunge Lepiani, dovrebbe chiedere la consulenza degli enti bilaterali, cassa edile e sefors VCO. Ci deve essere anche un aiuto da parte delle istituzioni. La prosecuzione degli appalti pubblici è importante perché il settore possa ripartire senza inceppamenti e tentennamenti, soprattutto irregolarità. Non bisogna essere troppo frettolosi, ma nemmeno immaginare di poter tenere bloccati il comparto ancora lungo. La Feneal Will si dice disponibile al confronto, ma lancia anche un monito verso le aziende. Seremo, dice le piane tempestive nell'effettuare segnalazioni agli organismi ispettivi, laddove ci pervengono comunicazioni che non vengono applicati protocolli di sicurezza o non vengono forniti dispositivi di protezione individuali. La salute dei lavoratori non può essere messa a repentaglio.